Dopo diversi giorni oggi torno con una video recensione alla quale tengo particolarmente perché? Perché in questi giorni ho avuto la possibilità di guardare un film del quale non è che si stia parlando più di tanto eppure a me è piaciuto tantissimo quindi voglio recensirlo però prima di iniziare come sempre vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto perché così mi aiuterete a farlo crescere ancora di più attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti ed infine se il video vi sarà piaciuto lasciate un like il che sicuramente non guasta quindi vi ringrazio davvero se lo farete ma passiamo a quello che è l'argomento del video di oggi oggi voglio infatti parlarvi di un film che ho appunto recuperato in questi giorni non era sicuramente tra le mie priorità però è pur vero che per determinati motivi era un film che mi aveva incuriosito fin da quando se ne iniziò a parlare ormai diversi mesi fa e quindi nel momento in cui si cominciò a capire anche che sarebbe arrivato in Italia purtroppo devo dire purtroppo soltanto attraverso la piattaforma streaming Apple TV Plus non è passato nelle sale non è al momento presente in altre piattaforme o in un video quindi lo trovate soltanto su Apple TV Plus ed è il film Tetris un film che mi incuriosiva diciamo del quale chiaramente parlerò senza fare nessun tipo di spoiler tranquilli anche perché ripeto potreste non averlo ancora visto dato che non credo che se ne stia parlando a sufficienza ma è un film che comunque si configura per il fatto di essere un film biografico quindi il rischio spoiler sarebbe tutto sommato relativo perché racconta una storia realmente accaduta e ci arriveremo tra poco però è pur vero che ha tutta una serie di caratteristiche che io non mi aspettavo e quindi si sviluppa in un determinato modo quindi non voglio in alcun modo rovinarvi la visione di questa pellicola perché ve lo dico a me il film è piaciuto ed è piaciuto anche tanto ora che cosa racconta questo film? diamo una infarinatura generale per quanto riguarda la trama il film Tetris come è facile da capire anche dal titolo non vuole far altro che raccontare quella che è stata la genesi e poi anche la distribuzione di uno dei più importanti videogiochi della storia probabilmente cioè appunto Tetris un videogioco che infatti affonda le proprie radici in quella che era l'Unione Sovietica degli anni 80 proprio perché è stato ideato da un russo quindi da un sovietico proprio in quel periodo però poi successivamente entrarono in gioco anche gli americani gli statunitensi e poi anche i giapponesi in quelle che sono state le diciamo le beghe le battaglie legali e non soltanto legali bisogna dire che in qualche modo vennero affrontate dai russi dagli stati uniti ma anche dai giapponesi per quella che poi è stata la distribuzione del gioco effettivo gioco che poi in realtà è stato anche in qualche modo rimodulato per poterlo far diventare quello che conosciamo oggi e per poterlo poi distribuire in tutto il mondo attraverso le console attraverso i cabinati attraverso anche le console portatili quindi tutta una serie di guai tutta una serie di problematiche giudiziarie tutta una serie di problematiche anche politiche mi verrebbe da dire che chiaramente si vanno ad inserire in un contesto storico in un contesto socio-politico che è quello degli anni 80 e cosa c'era negli anni 80? la guerra fredda tanto che infatti il film Tetris va a rappresentare anche una sorta di simbolo di quello che è stato il periodo duro che tutto il pianeta chiaramente visse in quegli anni proprio la guerra fredda tra il blocco sovietico da una parte e gli Stati Uniti il blocco americano dall'altro il blocco occidentale possiamo dire dall'altro quindi in qualche modo le due grandi superpotenze oltre che scontrarsi chiaramente su dei campi su delle tematiche molto più importanti si scontrarono dovettero affrontare anche una battaglia per quanto riguarda la distribuzione del gioco Tetris ora io mi fermo qua per quanto riguarda la trama non voglio dirvi altro proprio perché voglio farvi gustare il film fino in fondo senza andarvi a spoilerare nulla però ve l'ho detto a me il film è piaciuto tantissimo ora cos'è che mi aveva attirato fin da subito quando ho cominciato a capire che sarebbe arrivato un film sul Tetris innanzitutto è diretto da un regista John S. Bird che non è che abbia fatto tantissimi film nella sua carriera c'è da dire perché si è dedicato anche a dei prodotti seriali ma quello che ormai è il suo penultimo film lo possiamo dire è Stanley ed Olio un film biografico di qualche anno fa un film che si propone di raccontare quella che è la fase finale della carriera di questi due grandissimi artisti tra l'altro interpretati rispettivamente da John C. Reilly per quanto riguarda Olio e Steve Coogan per quanto riguarda Stanley un film che a me era piaciuto tantissimo e che tra l'altro tra parentesi vi consiglio di recuperare chiuso a parentesi chiaramente torniamo al film Tetris quindi il fatto che ci fosse John S. Bird alla regia sicuramente rappresentava un elemento in grado di incuriosirmi poi tra gli attori abbiamo Taron Egerton che è l'attore che ha interpretato Elton John per intenderci qualche anno fa nel film Rocketman per capire ed è un attore che io stimo è un attore che apprezzo e che ho avuto modo di apprezzare anche sempre di più nel corso degli anni è un attore che probabilmente ancora non ha avuto il ruolo della vita non ha avuto il ruolo in grado di consacrarlo definitivamente al grande pubblico anche alla critica ma sono dell'idea che prima o dopo arriverà perché è davvero un bravo attore quindi la sua presenza era un altro elemento in grado di incuriosirmi poi è chiaro il film Tetris per quello che vi ho raccontato si configura come un film biografico e chi mi segue da un po' di tempo lo sa io amo i film biografici ed infine ovviamente ultimo ma non ultimo per importanza l'elemento finale è la presenza di una storia legata ai videogiochi soprattutto ad un videogioco degli anni 80 e degli anni 90 che ha segnato quell'epoca e io essendo nato alla fine degli anni 80 ho vissuto in pieno quel periodo quindi ho tutta una serie di ricordi nostalgici anche legati a quel periodo legati proprio al Tetris è uno dei videogiochi che io ho consumato maggiormente nella mia infanzia nella mia adolescenza ma ancora oggi mi capita di giocare al Tetris perché è davvero uno dei giochi che secondo me è stato in grado di diventare anche un'icona di quel periodo è un'icona proprio del mondo dei videogiochi perché Tetris bene o male è qualcosa che conoscono tutti magari non necessariamente per averci giocato ma se io anche dico a mia mamma Tetris lei sa di che cosa sto parlando e lei non è che sia stata mai una grande videogiocatrice anzi tutt'altro ma è un gioco che ha segnato la sua epoca ha segnato la storia dei videogiochi quindi tutto questo ovviamente non ha fatto altro che in qualche modo creare l'atmosfera giusta per incuriosirmi sempre di più quindi per stuzzicarmi e per stimolarmi a recuperare questo film questo film poi è stato in grado di come dire piacermi anche perché mi ha sorpreso piacevolmente perché perché sì è un film biografico e quindi lo si deve considerare come tale poi chiaramente sicuramente ci saranno anche tutta una serie di differenze con la realtà tutta una serie di libertà che gli sceneggiatori si saranno presi tutta una serie di licenze narrative senza dubbio ma come sempre dico i film biografici non sono dei documentari quindi ci sta che ci possano essere delle differenze con la effettiva realtà dei fatti ma la cosa che mi ha colpito particolarmente di questo film è il fatto che sì è un film biografico ma è una pellicola che può essere tranquillamente anche definita come uno spy movie una sorta anche di thriller possiamo dirlo perché perché la genesi del Tretis e poi anche la successiva distribuzione di questo videogioco come detto ha coinvolto questi due grandi blocchi di quell'epoca quindi gli Stati Uniti da una parte e l'Unione Sovietica dall'altra ed infatti quello che si viene a determinare è proprio una sorta di spy story perché entrano in gioco tutta una serie di personaggi più o meno inquietanti più o meno misteriosi sia da una parte che dall'altra entra in gioco anche il Giappone come vi ho detto poc'anzi quindi ci sono tutta una serie di rimandi anche alla seconda guerra mondiale mi verrebbe da dire tutta una serie di vicende che fanno di Tetris uno spy movie io non diciamo non ho difficoltà nell'andarlo a definire in questo modo e mi ha sorpreso mi ha sorpreso davvero perché non mi aspettavo che la storia venisse gestita in questo modo e tra l'altro non soltanto questo ma è stata gestita secondo me in maniera perfetta dall'inizio letteralmente fino alla fine è un film che essendo biografico ora ripeto non faccio spoiler ma bene o male sappiamo come le cose poi sono andate a finire perché il videogioco Tetris è una realtà quindi è esistito esiste ancora oggi è stato distribuito quindi tutto sommato avendo anche una minima infarinatura del mondo dei videogiochi sappiamo come le cose andranno a finire quindi non voglio spoilerarvi nulla però lo spoiler è relativo però è anche vero che nonostante questo quindi nonostante io sapessi perfettamente come le cose sarebbero andate a finire il film riesce a farti stare in tensione riesce davvero ad accalappiarti ti intrappola in quella che è la storia che viene raccontata e lo fa rendendo appunto una storia comunque nota per diciamo per i suoi tratti generali ma la rende avvincente da morire io chiaramente non conoscevo nel dettaglio la storia del Tetris non conoscevo nel dettaglio quelli che sono stati diciamo i vari momenti che hanno portato il videogioco a essere sviluppato ad essere poi distribuito ci sono stati tutta una serie di problemi questo non lo conoscevo nel dettaglio però ripeto il videogioco esiste quindi è chiaro che le cose andranno in un determinato modo eppure il film non annoia neanche un secondo il film non ti fa dire neanche per un momento beh diciamo questa parte mi sta in qualche modo diciamo rompendo le scatole perché tanto lo so come va a finire no neanche per un secondo io non ho pensato neanche per un minuto a quello che poi sarebbe stato il finale della storia quindi questo fa di Tetris già in questo modo un film molto interessante poi ripeto è un film che è stato gestito perfettamente per quella che è la scrittura della storia quindi in sede di sceneggiatura i dialoghi secondo me funziona una meraviglia anche la definizione dei personaggi la scrittura dei personaggi è una scrittura che funziona perché perché in un film del genere si corre il rischio soprattutto quando è un film americano fondamentalmente si potrebbe correre il rischio di incappare in tutti quelli che sono i classici cliché gli stereotipi tipici di un film che racconta una storia che vede contrapposti sovietici da una parte e gli Stati Uniti dall'altra soprattutto perché ripeto un film americano tendenzialmente prende le parti degli Stati Uniti ora è pur vero che sono presenti degli stereotipi qui e lì soprattutto nella inquadratura dei personaggi ma in realtà il film non è che prenda le parti degli Stati Uniti in maniera così netta così come non è che venga dipinta l'Unione Sovietica come il male assoluto ci sono dei momenti in cui le cose sembrano così davvero definite però in realtà ci sono delle sorprese poi dietro l'angolo quindi non è tutto così ben delineato così ben definito ed è per questo motivo che il film infatti non risulta essere assolutamente banale risulta essere avvincente appunto e si vuole capire come le cose andranno a finire poi in realtà le cose andranno a finire in un determinato modo ma il modo in cui la storia si sviluppa è tutto fuorché banale e questo ripeto è un punto a favore della pellicola è una cosa che non mi attendevo non aspettavo non mi aspettavo potesse essere realizzata e potesse essere realizzata così bene quindi sorpresa delle sorprese il film Tetris in questo senso è stata una davvero una visione piacevolissima io non ho esitazione nel dire che in questi primi mesi del 2023 probabilmente si configura come uno dei film migliori che io abbia visto fino ad ora non un capolavoro chiaramente non vi aspettate il film dell'anno il film espionistico dell'anno chiaramente no non è un thrillerone di quelli che rimarranno gli annali però è un piccolo gioiellino che secondo me bisogna tenere d'occhio soprattutto perché se ne sta parlando davvero poco forse anzi senza forse sicuramente il fatto di essere stato distribuito soltanto su Apple TV Plus purtroppo lo sta penalizzando perché è una piattaforma questa che continua ad essere considerata non so se è a torto o a ragione è troppo elitaria non so come dirla troppo distintiva soltanto per chi magari ha i dispositivi Apple così non è tra l'altro e difficilmente le persone si abbonano a Apple TV Plus perché perché lo posso anche capire ci sono Netflix Prime Video Disney Plus non si può essere abbonati a tutte le piattaforme però è pur vero è pur vero e questo lo dico anche per altri per altri servizi come può essere Mubi per esempio molto spesso queste piattaforme offrono o delle offerte imbattibili Mubi per esempio lo fa in alcuni casi o permette anche di abbonarsi cioè di abbonarsi più che altro di provare per una settimana magari la piattaforma per poi eventualmente di sdire dopo una settimana senza pagare nulla ma almeno si dà la possibilità di capire di che cosa si tratta ecco per quanto riguarda Apple TV Plus io vi invito a fare la settimana di prova eventualmente e date un'occhiata a tutto quello che è il catalogo perché potreste trovare dei piccoli gioielli dei piccoli grandi gioielli come appunto Tetris quindi io vi consiglio di guardarlo questo film è un film che poi funziona anche per quanto riguarda le provatoriali chiaramente Tyrone Egerton spicca su tutti perché il suo personaggio tutto sommato rappresenta il fulcro attorno al quale ruota tutto il resto il personaggio che ha permesso poi anche la diffusione la distribuzione del Tetris in maniera difficoltosa ha dovuto fare i conti con tutta una serie di problematiche ma è stato lui che poi ha permesso al Tetris di diventare Tetris poi anche i personaggi di contorno e comunque funzionano i personaggi secondari e sono proprio quelli tra l'altro che in qualche modo rendono abbastanza sfumata la contrapposizione Russia Stati Uniti perché non è così netta come si potrebbe pensare e poi il film funziona chiaramente anche per quelle che sono le le ambientazioni siamo soprattutto negli diciamo il film è ambientato principalmente ma non soltanto in Unione Sovietica ma ci sono dei momenti anche ambientati negli Stati Uniti in Giappone perché come vi ho detto entra in gioco anche il Giappone perché la piattaforma l'azienda e poi le console che entrarono in gioco principalmente nella distribuzione di Tetris furono soprattutto le console della Nintendo quindi la Nintendo il NES per esempio il Game Boy quindi chiaramente il Giappone ebbe un ruolo principale in questa storia un film che poi ripeto funziona a dovere per quanto riguarda l'impianto narrativo e poi devo dirvi una cosa ah funziona anche per un'altra cosa tra l'altro una piccola chicca che diciamo può essere considerata anche semplice fan service lo devo dire perché è un elemento che non ha importanza strategica per quanto riguarda la storia e per quanto riguarda il film il film probabilmente avrebbe funzionato lo stesso anche senza ma ci sono dei momenti in cui la storia quindi è quello che viene messo in scena viene convertito da live action a quello che può essere l'aspetto di un videogioco 8 bit di quegli anni ora voi direte non serve a nulla sì non serve a nulla in effetti non ha una utilità effettiva per quanto riguarda lo sviluppo della trama però ecco sono degli elementi che vengono gettati lì in maniera chiaramente furba c'è da dire ma anche in modo intelligente proprio per andare a solleticare la mente dello spettatore e anche la nostalgia dello spettatore soprattutto per chi come me è nato e cresciuto tra gli anni 80 e gli anni 90 e ha vissuto quel periodo quindi sono quelle piccole chicche messe lì ripeto che non servono a nulla nell'economia generale ma tutto sommato ci stanno un'altra cosa che mi ha davvero colpito e vado verso la chiusura della video recensione ed è una cosa che non era così scontata è la presenza di una colonna sonora stupefacente forse può essere considerata anche l'elemento migliore del film voi direte ma perché la colonna sonora cosa c'è di particolare in un film come Tetris e soprattutto per quanto riguarda la colonna sonora beh se voi avete giocato a Tetris o se bene o male conoscete il gioco sapete benissimo che uno degli elementi come dire cardine del videogioco stesso oltre che chiaramente il gioco dei mattoncini è proprio la colonna sonora la colonna sonora del videogioco Tetris è distintiva è famosissima ora io non ve la posso riprodurre perché altrimenti il video mi viene forse anche sono sostraicrato mi viene bannato quindi non voglio rischiare nulla ve la canticchio con questa voce che chiaramente non è proprio l'ideale ma faceva più o meno così quindi avete capito di che cosa stiamo parlando andatela a cercare su youtube ma è facile capire a che cosa mi stia riferendo bene ora la colonna sonora di questo film del film Tetris ha sfruttato per una buona quota parte mi viene da dire quasi al 70% quella che era la colonna sonora del Tetris del videogioco Tetris andandola però a rimodulare con delle sonorità diverse con tutta una serie di modalità differenti che secondo me sono davvero straordinarie ci sono dei momenti per esempio in cui viene accentuata la sonorità russofona mi verrebbe dire della colonna sonora che già di suo chiaramente richiama tonalità russe ma ci sono dei momenti in cui viene sfruttata anche per aumentare la componente adrenalinica del film per fare stare in tensione lo spettatore oppure per sottolineare la componente più divertente più di intrattenimento del film chiaramente ci sono dei momenti in cui è palesemente quella che è la colonna sonora del videogioco e quindi lì chiaramente si stuzzica la nostalgia dello spettatore quindi davvero una cosa che non mi aspettavo che si vada ad aggiungere alle tante sorprese che questo film è stato in grado di regalarmi quindi la colonna sonora sembrerebbe una stupidaggine così non è quindi va a corredare il tutto va a rendere davvero questo film un piccolo grande gioiello che io vi consiglio caldamente di recuperare quindi dategli un'occhiata se avete la possibilità di guardarlo e fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti se già l'avete visto ovviamente ha maggior ragione fatemi sapere la vostra opinione qui sotto perché sono davvero curioso di capire l'effetto che sarà stato in grado di provocare in voi questo film tetris quindi vi aspetto qui sotto nei commenti io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi rinnovo l'invita di iscrivervi al canale per aiutarmi a farlo crescere ancora di più attivate la campanella e poi lasciate un like che sicuramente non guasta poi qui sotto in descrizione trovate altri modi per poter supportare il mio canale innanzitutto c'è la funzione super grazie con la quale poter lasciare un commento in evidenza attraverso una piccola donazione al canale avete la wishlist Amazon se volete farmi un regalo un link Amazon che vi invito ad utilizzare per fare qualunque vostro acquisto su Amazon perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata automaticamente da Amazon al sottoscritto e poi vi invito anche a seguirmi in tutti i miei canali social da Telegram Twitter Instagram così come anche la mia pagina Facebook Doctor Cinema noi ci becchiamo in una prossima video recensione perché ne ho ancora in ballo alcune da dover recuperare spero di potervele portare presto ci becchiamo in un prossimo video in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale dovrebbe arrivare spero di poterla realizzare dovrebbe arrivare una classifica di quelli che sono i film migliori di un regista cioè i film migliori quelli che sono i film di un regista che amo particolarmente quindi spero di potervela portare presto ci becchiamo anche in tutta una serie di rubriche che sto portando avanti nel mio canale come sempre vi auguro una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti